Ciao a tutti ragazzi Sono io Luigi D'Alcanto e la decisione è stata fatta Cioè farò la musica del trailer del Nintendo 2DS Allora, il 2DS nel trailer avrete sicuramente sentito una canzone Infatti quella era una delle cose che mi è piaciuta nel trailer La musica E poi non è una musica che troviamo su internet cosa Quindi me la faccio sentire io Infatti se avete mai desiderato di sentire solo la musica quando vedete il trailer Questa è la vostra occasione Non perdetevi questo straordinario video della musica Della straordinaria schifosa console Cioè dico il Nintendo 2DS Buona ascoltazione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti